Bentornati, siamo alla decima novella della prima giornata e in questo caso la storia si apre con un lungo esordio nel quale ci viene ricordato che bisogna stare molto attenti quando vogliamo rimproverare qualcuno e questo ammonimento è rivolto soprattutto alle donne che spesso parlano, parlano, parlano e non si rendono conto che il rossore che vorrebbero far cadere sulle guance del malcapitato ricade su di loro perché spesso poi vengono ammonite a loro volta e sarà proprio il caso di Margherita de Ghisolieri che verrà rimproverata in modo molto cortese dal protagonista della nostra storia che è Mastro Alberto dei Zancari. Bisogna dunque prestare attenzione quando si vuole far svergognare qualcuno, ecco di nuovo l'uso della parola, bisogna fare proprio attenzione a come noi impieghiamo e spendiamo le parole, spesso possiamo fare molto male agli altri quindi bisogna calibrare bene le parole e dosarle nel modo giusto. Interessante quella ammonimento insomma che è anche molto ironico e scherzoso quando Boccaccio ci dice che il parlare a lungo è disdicevole soprattutto per una donna e qui ci torna alla mente anche il mondo classico, pensiamo a Plauto, pensiamo a Cicerone ma moltissimi altri autori insomma del mondo romano quando parlando della donna tutti sognano la donna perfetta e la donna perfetta è quella che non parla, è la donna muta e questo ci fa anche però oltre a sorridere ci fa capire che spesso noi parliamo a vanvera, bisogna stare molto attenti all'uso della parola quindi di nuovo il tema centrale della nostra trattazione che ci accompagnerà per tutte e cento le novelle. In questo caso siamo a Bologna, il protagonista è maestro Alberto dei Zancari, un personaggio storico realmente esistito qui e probabilmente ecco Boccaccio si ispira dunque a questo personaggio storico vissuto tra la seconda metà del tredicesimo secolo e la prima metà del quattordicesimo secolo dopo Cristo quindi siamo in pieno medioevo e Boccaccio dunque conosceva questo personaggio storico, un medico molto illustre a Ravenna, docente lettore di medicina all'università di Bologna il quale ha 70 anni, è vecchio ormai è anche molto saggio, è molto avanti negli anni, nonostante ecco Boccaccio ci dica che ormai si è spento, quasi spento del tutto quel suo caldo naturale, si innamora comunque di una bella donna, di una bella e giovane vedova Margherita dei Ghisulieri, ecco quindi di nuovo ritorna il tema della nobiltà di spirito, quindi al cor gentile rempaira sempre amore, il tema caro agli stilnovisti, qui abbiamo il topos dell'amore che arriva il cuore attraverso gli occhi, quindi ecco la tematica anche tanto cara a Petrarca, dunque Boccaccio non fa altro che ripetere, ripresentare, riproporre i topoi che sono ormai noti e famosi in tutta la letteratura medievale, quindi sia italiana che provenzale, ecco e ci parla proprio di quel viso delicato e vago e attraverso dunque gli occhi l'amore giunge al cuore e Alberto dei Zancari dunque si innamora nonostante la veneranda età. Non ci deve stupire perché pur essendo un uomo anziano è tuttavia ancora vivo e quindi è incline all'amore, soprattutto qui il tema anche di fondo, anche se non è trattato a dovere, è velato, insomma è sottinteso, è proprio quello della nobiltà di spirito, quindi la vera nobiltà, il vero cuore nobile è colui che sempre incline, sempre ben disposto nei confronti di amore, quindi è sempre pronto ad amare una donna ed è quello che succede in questo caso e nonostante quindi la vecchiaia inizia a passare molto spesso davanti alla casa della propria amata, sia a piedi sia a cavallo e questa donna, quindi Margherita realmente esistita anche lei, quindi sia Alberto che Margherita sono due personaggi storici, lei insieme alle sue amiche ridono e lo deridono così ma in modo scherzoso, non c'è il desiderio di infliggere un dolore, non c'è il desiderio insomma di calunniarlo o di rimproverarlo, ne ridono così tra di loro in modo scherzoso perché è vecchio ed è ancora innamorato, ce ne riescono a concepire il fatto che una persona anziana possa ancora nutrire un sentimento di questo tipo e un giorno quindi decidono di sedersi davanti a casa, quindi di aspettarlo e lo invitano a pranzo, quindi a un rinfresco, con l'intento di sbeffeggiarlo, di riderne così in modo scherzoso con leggiadre e leggere parole ecco questo è un altro tema chiave, un altro aggettivo importante proprio per farci capire che il loro intento sì è quello un po' così di scherzarci sopra insomma di riderne ma non si renderanno conto che l'uso non adeguato questa volta della parola improprio le porterà ad essere riprese da Alberto, come dice il Boccaccio lo scopo era quello di pugnere cortesemente, quindi notiamo anche questo mondo di ricchi borghesi che tentano di imitare anche i valori, gli ideali della nobiltà, lo sappiamo, ecco il loro obiettivo è quello di pugnere cortesemente, quindi in modo così sottile però senza offendere nessuno ma aggiunge il Boccaccio credendo vincere fu vinta, infatti in modo cortese, in modo veramente gentile maestro Alberto la rimprovera, lui è vecchio, è saggio, quindi c'è la contrapposizione tra la giovinezza e la vecchiaia, la gioventù che è molto impulsiva, che è priva di quella saggezza che invece contraddistingue la persona anziana. La critica che Alberto rivolge è molto semplice, le donne sono giovani dunque inesperte e non sanno scegliersi l'amante giusto, non sanno quindi distinguere il giovane bravo, buono, pieno di qualità positive dallo scapestrato, quindi da colui che dovrebbero evitare come la peste. Dice appunto a Margherita che ha visto più volte le donne mangiare i porri e i lupini però prendendoli sempre dalla parte più gustosa e quindi tenendoli in mano dalla parte più buona non la mangiano mai perché sono solite mangiare soltanto la parte priva di sapore e sono abituate a disfarsi invece della parte più gustosa e succulenta. Quindi cosa sta dicendo fuori di metafora? Che le donne cadono ai piedi insomma degli stupidi, degli scapestrati, dei poco di buono insomma di quelle persone che attirano per la loro bellezza, per la loro impulsività ma che poi sotto sotto non possiedono alcuna qualità positiva, cioè non sono onesti, non sono fedeli e così via e quindi poi rimangono puntualmente deluse. Invece se fossero molto più accorte come maestro Alberto sarebbero sicuramente intanto più felici e soprattutto avrebbero salva la loro reputazione, la loro onestà, cioè non si concederebbero al primo che passa. E con una metafora culinaria, mangiando la parte meno saporita e scartando il resto, maestro Alberto di fatto le rimprovera in modo cortese, in modo gentile, quindi anche nel modo in cui lui utilizza la parola ci fa capire quanto fosse gentile e nobile di cuore, una persona veramente valorosa, quindi che merita e che soprattutto avrebbe meritato il suo amore e quindi questo purtroppo non succede e dopo averla ripresa maestro Alberto si alza con i suoi amici e se ne va e quindi la lascia lì. In questo caso è stata messa a confronto l'impulsività dei giovani con la saggezza invece degli anziani, quindi la vera nobiltà sa usare in modo accorto, in modo accurato la parola, quindi noi possiamo riprendere chi ci offende o chi ci vuole anche sbeffeggiare, anche in modo scherzoso, ma senza offendere, quindi in modo opportuno. Quindi di nuovo ecco l'insegnamento, la parola può salvare una vita ma può anche rimettere al suo posto coloro che ci vogliono offendere, calunniare o che vorrebbero in qualche modo prenderci in giro, però ecco l'invito è sempre quello della misura in sostanza, bisogna saper usare il giusto mezzo, quindi senza offendere possiamo veramente usare lo strumento più potente che abbiamo, ovvero la parola, per veramente rimettere in riga chiunque.